300 medici ed esperti in patologie endocrine a confronto a città della scienza in occasione del quarto forum di aggiornamento in tema di terapie delle malattie endocrine. Una a tre giorni che vedrà al centro del dibattito le malattie più diffuse in Europa occidentale come appunto quelle endocrine, l'osteoporosi e l'obesità. Questioni di grande rilevanza sociale che hanno richiamato l'attenzione dei rappresentanti di tutte le istituzioni sanitarie ed ospedaliere campane. Le patologie endocrine sono divise in due grandi categorie. La prima categoria sono le patologie di impatto sociale. Se voi considerate il diabete, l'obesità, le malattie della tiroide, l'osteoporosi, sono tutte malattie endocrine, quindi sono quelle ad alto impatto nella popolazione. Poi c'è invece un altro capitolo che sono le malattie rare. Tumori rari, affezioni genetiche, autoimmunità d'organo, sono altri tipi di patologie che comunque sono delle patologie di cui si interessa l'endocrinologo. E questo è un forum, è il quarto, che ha la caratteristica di rivolgersi ai colleghi che operano in regione Campania. Nella gran parte dei casi lo stile di vita è quello che ci può salvaguardare riducendo il rischio di grandi patologie. In altre parole, mantenere un peso in equilibrio ci evita dal rischio del diabete, delle dislipidemie con aterosclerosi, infiammazione, malattie cardiovascolari e cancro. Quindi si sviluppa poi da lì un amplissimo spettro di patologie. Grazie.